Una manovra folle in pieno centro storico quando ancora il traffico era intenso. Era da poco passata l'una quando all'altezza dell'incrocio con Corso Vittorio Emanuele una 500X è sbucata ad altissima velocità dalla via Matteotti che stava percorrendo contro mano andando a impattare contro una Fiat Panda che viaggiava sulla via principale. Lo scontro è stato molto violento, la 500 ha praticamente sbalzato la Panda addosso al muretto di via 24 Maggio che si è sbriciolato a causa dell'impatto. Sul posto è stato necessario l'intervento dell'ambulanza per trasportare i feriti in ospedale. Tanti residenti hanno subito udito il boato precipitandosi in strada per prestare i primi soccorsi agli occupanti delle auto che fortunatamente non avrebbero riportato ferite gravi. Sul posto anche gli uomini del commissariato di polizia di via Zucchetto che hanno identificato i coinvolti e li hanno sottoposti all'alcol test. Un incidente spiegabile causato da una manovra incosciente che avrebbe potuto causare danni molto più seri. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza sono adesso al vaglio degli inquirenti anche se la dinamica appare abbastanza chiara. Il guidatore della 500, come si vede dalle immagini, viaggiava in controsenso a velocità molto sostenuta e non ha fatto nulla per evitare l'impatto. A terra non ci sono segni di frenata. L'incidente di ieri porta ancora alla ribalta il problema della sicurezza sulle strade e anche cittadine dopo i recenti fatti di sangue delle ultime settimane dove hanno perso la vita nella stessa giornata prima un centauro sulla Gellalicata e poi un giovane a bordo del suo scooter in via Manzoni. Ieri per fortuna non ci sono state vittime ma giudicare dalla dinamica poteva finire molto molto male.